Mi servono crediti? FIFA15CoinSmile, troverete il link e il codice coupon qui in descrizione, sono veloci, affidabili ed economici. Yeppa ragazzi, bentornati su Jovi HD Spoo, bentornati con il terzo episodio della serie Aguino, tu Argentina. Nello scorso episodio abbiamo raggiunto addirittura, non me lo aspettavo, i 40, 40 ragazzi, 40 mi piace, e dunque, boom, agero 87 nel nostro club, nella nostra rosa. Ho scelto altri tre giocatori tramite i vostri commenti, però prima di andare all'acquisto volevo dirvi se mettete mi piace, se commentate, oppure se guardate questo video mi invito a lasciare un semplice commentino, anche con un solo nome di un giocatore argento, argentino. E' importante perché mi aiuta a fare una scelta più ampia, perché se commentano solo 3-4 persone la scelta diventa molto ristretta, però con più commenti la scelta si ampia, perché non tutti possono commentare tramite, che ne so, ad esempio dicono tutti Dybala, dicono tutti Carrillo ad esempio. Invece con più commenti ci sono più scelte, più nomi a disposizione, quindi ho una scelta più ampia. Dunque ragazzi, vi invito come sempre a lasciare un bel mi piace e un bel commentino, vi pongo un'altra sfida. Se volete vedere Dybala upgrade, la missione 74 argento se non erro, sì, vi invito a mettere mi piace a questo video, arriviamo almeno a 25 mi piace per Dybala upgrade ragazzi. Dunque, ora andiamo a fare i nostri acquisti. Tutti mi avete consigliato Carrillo, eccolo qui, vediamo, ha un metro e 87, interessante. Apriamolo ad acquistare, primo acquisto Carrillo, benvenuto, benvenuto. Poi un altro acquisto che ho lasciato è questo Vergini, è un difensore centrale argento, anche abbastanza interessante, alto, veloce, interessante. Acquistiamolo Vergini, Vergini o Vergini? Ditemi voi come si dice, Vergini, Vergini o Vergini? E l'ultimo acquisto, si tratta di Roncaglia, terzino destro, è terminata la vendita. Ah, l'ho preso io, buono. Dunque, dovrebbero essere rimasti, scusate che faccio un attimo il conto, 4.800, 5.000, 5.800 scusate. Non vedete quei crediti perché mi sono passati i crediti per poter comprare Aghiro 87 e poi mi sono anche avanzati. Quindi, da 21.000 dobbiamo togliere 5.800, 5.000, 15.000, 16.000, vabbè, facciamo un 15.000 mi sono rimasti. Dai ragazzi, dai ragazzi. E dunque ragazzi, siamo pronti per la prima partita di questo episodio. Questa è la squadra del nostro avversario, abbiamo un Zeko Jovetic in attacco, nulla di particolare, giocatori in bronzo orari e niente di che ragazzi, niente di che. Vedi Aghiro, il giro di Aghiro, subito così, il primo gol al terzo minuto ragazzi, questo Aghiro 87 ci fa ben sperare per una sua ottima prestazione. Primo gol, cazzo. Palla per Aghiro. Aghiro. Il dribbling di Aghiro. Il giro di Aghiro. Mamma mia, così li passecchi tutti, 2-0, sono già 3.000 crediti in cassaforte ragazzi. 3.000 crediti. Intanto l'avversario, secondo me, sta per quittare perché ho fatto due tiri e due golla al decimo minuto, non si sta giocando bene. Infatti quitta così ragazzi, bene 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 bene. Iniziamo subito bene. Ho fatto due gol, quindi 3.000 crediti da aggiungere ragazzi. 3.000 crediti. Bene bene. Eccoci con la squadra partita. La seconda squadra avversaria abbiamo Williams, difensore centrale di sinistra. Poi abbiamo Musaccio, Mignone in porta. Poi come attaccanti, Pelle, Remy, esterno-destro, Isla, Cioci, Tad, chi è Tad, no non è Tad, non so chi sia. Comunque ragazzi vi rinnovo, vi invito a mettere mi piace a questo video. Arriviamo almeno a 25 mi piace per Dybala upgrade. Non vi dimenticate di commentare. Se quando mettete mi piace lasciate anche un commentino. Easy easy. Palo per Aghero, si libera. Aghero, la piazza Aghero. Il palo, è ancora lui. Aghero, mamma mia. Un rapace, prende il palo. Poi la infila di nuovo, di nuovo anche in questa partita. Al terzo minuto ragazzi. È un macchina, 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 macchina da gol. Mi si era incagliato il disco, incagliato, incagliato. Attenzione, rosso per Fergini. Un super brutto mega intervento da dietro. Non era l'ultimo uomo, non era necessario, però è un cattivissimo intervento. Brutto, brutto, brutto. Si va con uno in meno. Forse diventa difficile. Vai Aghero, tira Aghero, tira Aghero. Aghero, 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 Aghero. Al noventesimo minuto. E fino ad ora, questa è una sbaglia. Finisce qui anche quest'altra partita. Bene, 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 bene. Rosso, due gol di Aghero, altri 3.000 credit. Vediamo se ha ricevuto la nomina di migliore in campo. Che se non credo. Invece sì, nomina di migliore in campo, quindi 13.000 credit da aggiungere, ragazzi. Siamo arrivati a 21.000, no, che cazzo sto dicendo? 31.000 credit, ragazzi. 31.000 credit. Vi ricordo, come sempre, come sempre, non dimenticate il mi piace e non dimenticate di commentare con altri 3 nomi di giocatori Argento Argentini. E se lasciate un mi piace, almeno commentate. E arriviamo almeno a 25 mi piace per Dybala Upgrade. Continuiamo con la terza partita e ultima. La terza e ultima partita di oggi abbiamo questa squadra argentina. Semi-argentina con pochetti. Ah, interessante, interessante, una buona intesa. Comunque, ultima partita. Non dimenticate il mi piace, ragazzi. Il mi piace è importante, così come il commentino. Non ci perdete nulla a scrivere, per esempio, Dybala Upgrade, ad esempio, eh. Carrizo, che già ho, ad esempio, Centurion. Questi nomi qua, ragazzi. Ragazzi, dai cazzo, dai cazzo. Palla per Aghero. Il tiro di Aghero va dentro. Questa palla, 24esimo per il numero 24. Con coincidenza, non credo proprio. Aghero, palla sotto la traversa e la infila in rete per l'1-0. Ehm, Aghero, dai. Non mi posso lamentare di un giocatore così. Aghero? Si libera. Aghero? In aria. Il tiro di Aghero! Mamma mia. Ci smarca a tutti quanti. Le cune di Aghero. Altri credit da aggiungere. Due 3.000 credit attualmente. Poi chissà se farà qualche altro gol. Comunque, il cune di Aghero di sinistro anche. Non perdona, ragazzi. Non perdona. Cartellino rosso, ragazzi. Cartellino rosso. Per il giocatore avversario Fernandez. Intervento bruttissimo. Ripediamolo. Così, vedete. Bam! Era da immaginarsi un cartellino rosso. Va bene, tanto stiamo vincendo. Chi se ne frega. Dunque, la partita termina così, ragazzi. Il doppietto di Aghero non ho voluto infierire più di tanto. Mi sono mangiato parecchi gol, anzi. Perché non volevo infierire tantissimo. Dunque, sono altri 3.000 crediti. E se Aghero è migliori in campo, sono 13.000 crediti. Quindi, in questo fin episodio sono 44.000 crediti. Dunque, commentate, ragazzi. Se mettete un mi piace e un dislike, o se guardate questo video, non vi dimenticate di commentare. Volevi vedere tanti commenti sotto a questo video. Con 3 nuovi giocatori argento-argentini. Non dimenticate il mi piace. Arriviamo almeno a 25 miliaggi per vedere nel prossimo episodio di Balla Upgrade, versione 74, argento sempre. Dunque, ragazzi. Qui è a tutti i spot. Vi saluto, vi ringrazio e ci vediamo per un nuovo video. Ciao, ragazzi.